Tre arresti e uno sparo. Lo spaccio di stupefacenti è il filo che lega due casi di cronaca che coinvolgono il bellunese e che scaturiscono da due distinte indagini dei carabinieri. Giovedì l'arresto di un 47enne originario di Seren ma residente a Cittadella nel Padovano. Durante la convalida da parte del Tribunale della Città del Santo per detezione di stupefacenti, l'uomo sparito nei boschi di Seren e così sulle sue tracce si sono messi i carabinieri della compagnia di Feltre. A Padova nel frattempo il giudice decideva di non applicare alcuna misura restrittiva. L'auto del 47enne che a questo punto non era più un fuggiasco è stata trovata a Pian della Cesa davanti alla casera di famiglia. Sulle tracce dell'uomo che avrebbe minacciato un insano gesto e sarebbe partito con un fucile carico, oltre ai carabinieri c'erano anche vigili del fuoco e soccorso alpino. Secondo alcune indiscrezioni un uomo del nucleo forestale avrebbe sentito uno sparo. Il 47enne non è ancora stato ritrovato. È senz'altro nota invece la posizione di due uomini arrestati nei giorni scorsi per detenzione di stupefacenti. L'indagine condotta dal nucleo investigativo di Belluno con la collaborazione nella fase delle perquisizioni finali dei militari di Tricchiana ha portato al sequestro di un chilo di marijuana. Alcuni mesi fa una segnalazione relativa al sequestro in Germania di un plico postale diretto a Belluno e contenente sostanza stupefacente. Gli accertamenti tesi a verificare un eventuale coinvolgimento del destinatario nello spaccio hanno rivelato come lo stesso si facesse pagare 20 euro per la sola consegna a terze persone. In due delle abitazioni in cui sono stati effettuati i recapiti e successivamente le perquisizioni sono stati trovati rispettivamente 400 e 600 grammi di marijuana, oltre che, limitatamente alla seconda casa, 1500 euro in contanti e materiale informatico che verrà ispezionato per ricostruire eventuali dettagli aggiuntivi. L'indagine si è chiusa con un arresto con custodia cautelare in carcere e uno con i domiciliari.